Genial Pago take one. Ciao sono Genial Pago, vengo da Conegliano in provincia di Treviso, Italia. Ho deciso di tornare in Australia dopo un anno passato qui nel 2008. È un paese che adoro. In particolare Sydney la trovo una città speciale. Australia mi ha dato la possibilità di continuare anche qui a fare il mio lavoro che è appunto l'educatrice al nido. Al mattino frequento un corso di inglese, l'IELTS. È uno dei requisiti per ottenere la cittadinanza. I miei progetti per il futuro sono di rimanere a vivere qui stabilmente in Australia. Tre anni fa quando ho conosciuto Gostadi sono stata sorpresa dal fatto che tutti i loro servizi sono stati gratuiti e dal cercare casa, al trovare lavoro, all'offrire un'assistenza per trovare il corso migliore. Gostadi mi ha aiutato anche nell'aprire un conto in banca e mi ha seguito anche per effettuare la Medicare. Avendo già utilizzato il Working Holiday Visa la prima volta a 27 anni, quando sono venuta qui in Australia ho deciso di fare lo student visa e sono stata aiutata per tutta la procedura da Margaret. Lei mi ha appunto seguita nel compilare tutti i form quando ero ancora in Italia. È un visto studente che permette di lavorare 20 ore a settimana. A mio parere è una buona soluzione per coloro che decidono di arrivare in Australia superati 30 anni. Mi piace moltissimo questo paese, in particolare Sydney. Credo sia la città più bella al mondo dove la gente è aperta, disponibile, dove c'è un sistema di vita che rende tutto molto più easy, come dicono loro.